Amici, riparte il terzo corso base di cucina campitanese, il corso dei piatti tipici della tradizione popolare. Sono in un banco perché vi devo fare la ricetta sorpresa, anche questa volta partiamo alla grande, potrebbe essere il baccalà, ragazzi le fave, visto che siamo in periodo pasquale. Iscrivetevi, numerosi, come del resto numerosi siete sempre, l'aglio meraviglioso sardo, la garanzia di qualità insomma è garantita dalla signora Ignazia. Grazie, sì signora. Che ti prepara la cosa questa gente, su baccalà? Preparata la cosa, un bello prato di vaibudia e un bello biletto di baccalà, fatto così a Sant'Iga, con un bello sucigeto, bello di arrubi e così. A scabeccio? A scabeccio, si parla a scabeccio, con due belle sfitte di limone, una pizza, una boboa, dopo ripapa dopo una parecchia di spursi. Anche a Rao, ragazzi ricordatevi, 340, 360, 23, 65. Uno sono di lassas in canto, è sicuro e modesto su vanto, è una sorte su beni e richesa, è una sorte su beni e richesa.